Cari amiche e cari amici, articolo di Francesco Lamedola. Titolo. Traditi, beffati e mascherati. A quando risveglio? Molte persone ci scrivono, ci telefonano anche dall'estero per sfogare non soltanto la loro amarezza e indignazione di fronte al presente avvilimento di questa nostra bella Italia, ma anche la loro incredulità. Parecchi ci hanno confidato di avere l'impressione che tutto questo sia un sogno, una cosa che non può essere vera, non può accadere veramente. E questa sensazione di realtà dipende, secondo noi, da due ordini di fattori. Da un lato, tutto ciò che sta accadendo appare troppo ben sincronizzato, perché lo si possa credere il risultato di circostanze casualmente concomitanti, la falsa pandemia programmata da tempo, il colpo di Stato giustificato e legalizzato dalla pretesa emergenza sanitaria, la resa incondizionata ai poteri forti della grande finanza, dietro alle spalle del popolo sovrano, il controllo totale capillare su tutto il complesso dell'informazione, l'attacco ormai scoperto alla libertà di rete, ultimo bastione di resistenza, l'atto finale dell'autodistruzione anch'essa programmata, della Chiesa Cattolica opera del falso clero conciliare, mediante la sospensione della messa e la blasfema svalutazione dell'eucarestia, l'attuazione di un totalitarismo sanitario, ivi compresa la variante psichiatrica per i dissidenti, da attuare col consenso della gente, ultima picconata alla moribonda economia, per attuare la rovina completa dei cieti medi e la sua consegna alle grandi banche straniere. D'altro lato, c'è il fatto che tutto questo non ha suscitato un barlume di consapevolezza in una larghissima percentuale della popolazione, sicché siamo di fronte a un caso unico nella storia di una diffusa approvazione popolare nei confronti del governo, tra l'altro non eletto, che tradisce, beffa e sta assassinando una nazione intera. Questo ci induce alla malinconica constatazione che la parte più importante dell'esperimento in atto indurre negli italiani una vera e propria mutazione antropologica è perfettamente riuscita. Il simbolo esteriore di questa mutazione è la mascherina, che diventa, ed è divenuta, il segno beffardo di come gli italiani siano ormai lanciati a rotta di collo lungo la china di un furioso e incontenibile odio di sé. Beh, di tale odio avevamo già avuto nel corso degli ultimi anni numerose e inequivocaboli avvisaglie, dalla fiduciosa accoglienza riservata a Mario Monti, non eletto dal popolo ed espressione diretta di quei poteri, all'imposizione dei vaccini obbligatori da parte del ministro Beatrice Lorenzina nel 2017, o l'incriminazione dell'allora ministro Salvini per il caso della nave di Ciotti nel 2019, il trionfale ritorno vestita con l'abito di terroristi islamici che l'avevano rapita della cooperante Silvia Romano e la sua aperta apologia dell'islamismo, e poi tanti altri. Ecco, in ciascuno di questi casi una cosa era apparsa evidente. A una buona percentuale degli italiani non importa nulla dell'Italia. Chiunque può offendere, umiliare il tricolore, maltrattare i cittadini dall'esterno e dall'interno, imporre ogni sorta di prevaricazioni, certo che non vi sarà alcuna reazione. Anzi, che moltissime persone daranno ragione a quei poteri esterni e interni e staranno idealmente e materialmente non dalla parte degli italiani in quanto popolo sovrano, ma dalla parte di quelli che parlano e agiscono contro l'Italia. Tuttavia, che gli italiani si vogliano poco bene e che parlando in generale abbiano la propensione a sottomettersi con troppa facilità, riservando le loro energie, semmai al piacevole sport, di odiarsi e combattersi tra loro, di solito per conto di un potere esterno, tutto questo non è un fatto nuovo e quindi bisogna metterlo nel conto. Quello che è nuovo e che accomuna gli italiani ad altri popoli in questo momento storico è la totale perdita dello spirito critico e perfino della capacità di osservazione e del più elementare buonsenso a favore di un'accettazione incondizionata di tutto ciò che dicono i mass media. E non importa se lo dicono non sulla base di numeri, fatti concreti, ma di una sistematica campagna di terrorismo psicologico. Dicono che è nata una terribile pandemia la quale di per sé giustifica misure eccezionali adottate dal governo Contebis per via di decreti legge e impone loro un rigoroso regime poliziesco a suon di multe salatissime di denunce per i remitenti. Ah, benissimo! Ma allora, se c'è una pandemia, mostrateci i mucchi di cadaveri, fateci vedere le cifre della strage. Ma non accade. Perché? Perché i morti non sono dovuti al Covid-19, come dimostrano le cifre nude e crude, le quali dicono che quest'anno il numero complessivo dei decessi è diminuito e di parecchio rispetto all'anno scorso. Diminuito di 20.000 unità nei primi tre mesi e che si registrano molti meno casi di influenza in genere. La fretta di far cremare i deceduti in ospedale, la proibizione nei primi due mesi della quarantena di sistere funerali hanno alimentato il sospetto che si vogliono far sparire le prove di quanto abbiamo detto. Eppure una gran parte degli italiani si è bevuta tutto ciò che la stampa e i tigili hanno rifilato, con toni altamente drammatici, in assenza, penso che, totale di dibattito scientifico correlativo contraddittorio. Biologi che sostenevano le tesi diverse da quelle del governo sono stati infangati, attaccati, denunciati e soprattutto esclusi dal giro di mass media. I giornalisti che hanno avanzato tesi analoghe hanno subito la stessa sorte. Il livello della libertà di informazione, che non era mai stato alto nel nostro paese, ha toccato il punto più basso, segno visibile di questa immaturità politica e civile nel vedere 60 milioni di italiani ridotti a girare con la mascherina, come in un grottesco carnevale involontario. Le persone comune, dopo tutto, si rimettono ai pareri dei cosiddetti esperti. Nessuno che abbia l'onestà nella realtà di dire che le mascherine, specie quelle del tipo più semplice, usa e getta, non servono assolutamente a nulla, che potrebbero avere una ragione d'essere, parlando in generale, per proteggerli di altri, e non se stessi nei luoghi chiusi e affollati o di fronte a persone anziane a rischio, che indossarli in luoghi aperti, camminando, facendo sport, addirittura guidando l'automobile. Ma mai è assurdo? È sbagliato? È antigenico? Perché costringe le persone a respirare la propria nitride carbonica? E questo fa male? E poi tra poco, con il caldo, equivarrà a una vera e propria tortura? Ecco, qui dobbiamo essere chiari, eh? Intendiamoci. Non stiamo incitando chi che sia a trasgredire le norme o a esporsi alle ritorzioni delle forze dell'ordine. Infatti, è chiaro che di fronte alla prospettiva di beccarsi una multa di centinaia di euro che diventano migliaia per il gestore di un locale pubblico, la cosa logica da fare è adattarsi, volenti o nolenti, e osservare le norme. Però, una cosa è indossare la mascherina, nei guanti quando è espressamente prescritto. Un'altra è farlo anche quando palesemente non è necessario. Cioè, una cosa è tenersi a un metro, un metro e mezzo delle altre persone quando si è in un luogo chiuso, affollato, ad esempio in un supermercato. Un'altra cosa è tenersi a quattro metri, rimproverare l'altro se si avvicina troppo, magari all'aperto, fargli notare che non indossa i guanti o che non tiene la mascherina ben fissata sul naso e sulla bocca. Questo è un altro vaglio di maglia. E rivela, non la sottomissione inevitabile alla forza del potere, ma un'adesione spontanea, volontaria, incondizionata, aggressiva, che va perfino al di là di quanto viene ricresto, sconfina nella sistematica ostilità verso il prossimo e dalla pronta disponibilità a farsi i suoi delatori. È come se il vicino di casa, l'avventore di un bar, fossero diventati improvvisamente nemici pubblici numero uno, più pericolosi dei terroristi dei quali l'ha rimpatriata a nostre spese. Silvia Romano ha detto cose bellissime, questi terroristi sono stati così gentili, questi terroristi sono stati così corretti che, certo, non mi posso proprio lamentare di loro. Quando una buona fetta della popolazione non solo accetta la mascherina, ma la pretende. E quando non solo accetta di indossare i guanti, ma vuole che lo facciano tutti, anche dove non è obbligatorio. E quando i vescovi, i presi, sono i primi a lesinare la santa messa, a centelinare la santa comunione, ebbene, quando si arriva a questi livelli, significa che i danni che il popolo italiano ha subito dalle politiche di governo e dalla Chiesa sono immensamente più gravi di quel che si possa misurare sul piano materiale ed esteriore. E quando si vede un prete o addirittura un vescovo distribuire la santa comunione indossando la mascherina, guanti, pinzette, allungando il braccio al massimo e invitando i fedeli a fare altrettanto per ricevere il corpo di Gesù, eh, si capisce che qui è proprio finita. Il vero senso della religione è morto. E se i cattolici arrivano a guardare il corpo di Cristo come una pericolosissima fonte di virus, Gesù, per loro, non è la vita. È un simbolo morto. Questi italiani, divenuti fanatici della mascherina e della distanza di sicurezza, sono proprio evidente che il test del governo ha avuto un successo strepitoso. Eh? Quanti punti favorevoli può avere nei sondaggi il signor Conte ancora oggi? E il test era questo. Fare in modo che il più scalcinato, il più insignificante, il più vile dei governi nonoletti dal popolo quello formato da ministri più ignoranti, incompetenti, con un premier che non sa neanche mettere in fila due congiuntivi giusti in un discorso, riuscisse a risultare uno dei più amati. O almeno fosse percepito come la difesa necessaria contro un imminente pericolo di morte. E la gente si scordasse che fino al giorno prima quasi tutti chiedevano a gran voce le elezioni. Quanto all'uscita dall'euro per ottenere la quale milioni di persone hanno votato alle ultime elezioni per il Movimento 5 Stelle? Ma chi se ne ricorda più? Ma sono ben altre le priorità adesso. Dall'Unione Europea la gente si aspetta la salvezza. Quella stessa gente che fino a un anno fa vedeva nell'Unione Europea il pericolo più grave. In subordine pieno di successo anche per il test ecclesiastico anzi se è possibile un successo ancora più grande il primo Papa della storia altro applauso pronti? Che bestemmia apertamente! Bravo! Che pronuncia le sede ripetizione! Bravissimo! E un clero che nega ai fedeli la messa e la santa comunione ma questi vengono percepiti come il Papa migliore in assoluto come il clero finalmente schierato con la gente e con i poveri anziché con i ricchi e col potere mentre è vero l'esatto contrario visto che in compagnia di Bergoglio sia idealmente che materialmente ci sono Soros l'ABC il Deep State americano le multinazionali la magistratura politicizzata e tutte le forze peggiori della globalizzazione selvaggia complimenti gran bel lavoro e tutto col consenso della gente mascherina guanti distanza di sicurezza avanti marci infilo per tre un due passo un due passo un due passo un due passo